Buonasera Milano. Allora, Simone Enzaghi, nuovo allenatore dell'Inter. Mi chiedete che cosa ne penso? In tanti io vi rispondo tranquillamente, ma voi tranquilli non siete però, perché io ho parlato con diverse persone e ho sentito un'area di disfattismo allucinante. Noi abbiamo appena vinto lo scudetto. I giocatori per il momento sono gli stessi. Comunque sia è stato preso un allenatore di calcio, non è stato preso un ragazzo senza esperienza che non ha mai allenato. Simone Enzaghi ha fatto bene alla Lazio. Quindi io mi fido di Marotta. Se hanno preso Simone Enzaghi vuol dire che in questo momento la cosa migliore da fare per il budget che si ha e per la situazione che si è creata è prendere Simone Enzaghi. Perché partire già sfiduciati. Io non sono d'accordo. Cioè basta, basta parlare male della società Inter. Perché già lo fanno a livello mediatico. I mainstream non fanno altro che parlare male dell'Inter. Ma l'Inter ha vinto il campionato. Ma la fatta è finita. Il Milan. Allora parliamo del Milan che ha conquistato la qualificazione Champions all'ultima giornata. Il Milan ha perso a zero il suo giocatore più costoso. Cioè più di valore, non più costoso. Il giocatore di maggior valore, Donnarumma, l'ha perso a zero. Io ho letto sui giornali e ho sentito gente in giro parlare solo di quanto sia delinquente Raiola, o Raiola come si chiama, Donnarumma indegno. Ho visto fare esempi su Franco Baresi, lui non l'avrebbe mai fatto. Ma nessuno ha detto che la società ha fatto schifo nella gestione di questa cosa. Perché hanno perso un giocatore a zero, un giocatore di grande valore. Della Juventus? Cosa vogliamo dire della Juventus? Hanno cacciato Allegri, hanno versato, adesso non mi fai diventare volgari, hanno parlato molto male di Allegri perché il gioco di Allegri faceva schifo. E' arrivato Sarri, dopo un anno via Sarri. Poi Pirlo, adesso via Pirlo e ora torna Allegri. Ma perché non parlate un po' male del Milan e della Juventus al posto di parlare sempre male dell'Inter? Io dico perlomeno gli interisti, quelli che tifano Milano-Juventus, che difendano i loro dirigenti, che si facciano impapucchiare dai mainstream. Però quello che vedo io è che l'Inter ha vinto lo scudetto e gli interisti sono scontenti. Ma cos'è che volete? Cos'è che volete ancora? È cambiato l'allenatore. Basta, io mi sarei lamentato se avessero venduto De Vrij, Lukaku e Lautaro, per dire, no? Per il momento io non ho nulla da lamentarmi. Secondo me Inzaghi è un buon allenatore, quindi datevi una calmata, datevi una calmata, lasciamolo lavorare e speriamo che facciano un buon mercato. Ecco, quello magari vorrei vedere, vorrei vedere come va la campagna acquisti-cessioni. Però se la squadra è questa, cosa vi lamentate? Fate i bravi! Un saluto, alla prossima!